Dolainus è un cialtrone, è un cialtrone, mi fai cacare, sullo yacht, scusami ma è vero, fai cacare, sullo yacht si è fatto filmare, ha fatto un influencer, sapete quei bagarozzi, due navigatori c'erano, da due milioni di euro, ok, sul Pershing, ah io adesso torno a novembre, torno a dicembre, ma io non, cioè tu devi sparire, devi sparire dal web, devi sparire da tutto, da tutto, devi stare a casa, parli di automobili, di cosa parli tu, di automobili, parli di automobili, di cosa parli, di cosa parli, scusa, qual è il tuo argomento, qual è il tuo argomento, qual è la tua nomea, cioè per cosa sei pagato, per cosa ti danno i soldi, per comparsi la nostra passione, il paese in ginocchio e tu ti fai vedere nello yacht, quando c'è la gente che muore di fame per le strade, che è la gente che infila la caritas, tu ti fai vedere nello yacht, eh?